Come torneo ci aspettiamo sicuramente un grande torneo, visto comunque la grande annata dell'anno passato. Per quanto riguarda la partita ad oggi, gli avversari sono sicuramente ostici, visto comunque il loro passato. Quindi siamo comunque abbastanza sicuri di vincere, ma non si sa mai. Per quanto riguarda la partita ad oggi, per quanto riguarda la partita ad oggi. E' una partita combattuta, però alla fine siamo stati superiori dall'inizio alla fine. Abbiamo un giocatore che fa gol in ogni occasione e decide le partite, quindi bene. Questa è la prima partita molto bene. La partita è molto difficile, siamo i campioni, dobbiamo avere molto rispetto, però sappiamo le nostre qualità, sappiamo di essere forti, di rispetto per tutti, ma al paura di nessuno. Il torneo sarà molto difficile, lungo e complicato. Il torneo sarà molto forte, ma scatinaAi Il torneo sarà molto difficile, lungo e preocu sadly ha il periodo di essere forti. Ma non serviamo se trattano, muita le Δenergy è importante, poi scatina a vou Tenzin Evole sono pensobbini e ricordo di essere forti, ma a finché, quindi se raraf opp Glenn bello riprendere con una vittoria come avevano lasciato anche quest'anno vogliamo riconfermarci abbiamo fatto qualche cambio in rosa è andato via a pezzi grossi ma ne sono arrivati altrettanto bravi speriamo di riconfermarci partiamo bene e andiamo così non conoscendo gli avversari non posso dire nulla in partenza solo che noi siamo concentratissimi non vediamo l'ora di iniziare questo splendido torneo e non abbiamo cambiato nessuno a parte i portieri quindi ci conosciamo a memoria speriamo di fare un calcio migliore rispetto all'anno precedente grazie a tutti grazie a tutti abbiamo alcuni assenti importanti diciamo che non siamo partiti al massimo ma ci rifaremo sicuramente l'anno scorso abbiamo fatto l'open siamo arrivati a metà classifica quest'anno vorremmo lottare per i playoff vedremo grazie a tutti 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 grazie a tutti